...della finale della quindicesima giostra cavaleresca dell'Oroquale, della nona giostra dell'Oroquale. Finire e Finitino! FESCA! 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 Senza prima cosa! Poi devi dare una bandiera. Per che cosa? Dopo, tentando. E non vabbè, sì. un ragazzo ben vestito non lo state tutto a far sì di tutte le cose e sono il migliore di motivi grazie, grazie di buone a tutti i tuoi uomini vi hanno dato la mano che ho fatto la mano a tutti i tuoi uomini a partire da tutti i tuoi uomini non voglio dare un sacco di uomini per paura di diventare il valore grazie, grazie di buone la quindicesima televisione e opera con la vittoria di Manolessa e chitana e via e viva i nostri uomini buonanotte e viva la giostra di Simona e viva la giostra europea e viva gli ospiti europei e viva il popolo della giostra ringrazio e ora un saluto al presidente della giostra di Sartre I am so proud I am so happy I did say when I spoke I said reach out and touch so many souls we touch each other thank you so much thank you Sulmoma viva Sulmona we love you Sulmona che per la seconda volta consecutivamente vince il valore la giostra dei voli più belli d'Italia grazie a tutti 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 i voli più belli d'Italia che prestigiano questa settimana ma deve essere un altrettanto importante riscatto per la Grecia per il Chitera che ha vinto e il valore grazie a tutti i voli più belli d'Italia da parte di Crisola di Crisola di Crisola di Crisola di Ciclera E' una produsia più difficile, non è un'ocitra, ma è una chiamata Crisola di Ciclera Grazie! E' una chiamata, brava! Ero vicino dai tuoi pareti, Pilarti, abbiamo fatto un tipo per te! E... e... Vai, Pilato! Pilato! Vai! Piazza! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.